Ancora non ti sei iscritto? Con una quota di iscrizione di 20 euro vi offriremo tre partite garantite di sicuro divertimento e la moglie ufficiale del Cupra Padel Tour 2023. Non perdere l'occasione di conoscere tanti altri appassionati come te di questo bellissimo sport. La coppia vincitrice sarà ospitata a Roma al Villa Panfili Padel Club dove si svolgeranno le fasi finali con la presenza di giocatori come Cingotto, Belastaghin e Stupa e la presenza di ex calciatori come Zambrotta, Albertini e Materazzi. Basta andare sul sito cupraofficial.it o cliccare sul link che trovi nel primo commento. Non mancate!